Lo scorso febbraio il Comune di Pordenone ha ottenuto dal Ministero della Cultura un finanziamento europeo PNRR di 500.000 euro per il progetto Rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive al Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari. Questo progetto è stato realizzato grazie alla redazione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui il Comune di Pordenone si è dotato da alcuni anni per gestire i percorsi urbani del suo centro storico. Per la prima volta questo piano viene applicato ad un edificio e grazie ad esso è stato possibile identificare tutte le barriere presenti all'interno del museo, i cui lavori di rimozione inizieranno a partire da settembre 2023. Il museo si presenta decisamente ad un buon grado di accessibilità da un punto di vista fisico. Il piano terra è accessibile, c'è un ottimo ascensore, i piani sopra quindi sono raggiungibili e percorribili. Le barriere presenti che abbiamo rilevato anche attraverso il piano eliminazione delle barriere architettoniche sono invece quelle legate più alla sfera sensoriale e cognitiva e quindi sono quelle verso le quali si concentra anche di più il progetto. Facendo alcuni esempi, velocemente pensiamo all'illuminazione, che non agevola la fruizione dei contenuti, all'assenza di contenuti facilmente leggibili, quindi testi molto piccoli e spesso anche con contenuti molto scientifici, molto dettagliati, che rispecchiano ovviamente la natura del museo, ma non sono facili da comprendere per moltissime persone, pensiamo semplicemente ai non addetti al lavori. Oppure assenza di esemplari che possono essere toccati, quindi con un'accessibilità anche da parte di persone con disabilità visive, per le quali il contatto attraverso il tatto diventa un linguaggio principale. E poi, via dicendo, ci sono tutta una serie di piccoli accorgimenti che verranno risolti proprio con l'intenzione di trasformare quelle che sono adesso delle limitazioni invece in potenzialità. Avviamo una rivoluzione in questo museo, lo rendiamo pienamente accessibile a tutti, compreso ovviamente le persone in difficoltà e disabili, non solo da un punto di vista fisico e architettonico, ma anche da un punto di vista sensoriale e cognitivo, cioè rendiamo anche più fruibili le collezioni e i percorsi museali che sono contenuti in questa struttura. Tra l'altro una stanza verrà dedicata, per così dire, a spazio flessibile dove accanto a laboratori e didattica si potranno fare anche incontri e conferenze per far sì che questo non sia solo un museo, ma anche un centro culturale incentrato in particolare sulla cultura scientifica. Abbiamo fin dall'inizio cercato di accappararsi quanti più bandi possibili, europei, ministeriali, PNRR. Questo ci consentirà, in questo frangente, di investire 500 mila euro per rendere più bello, più godibile, più fruibile, direi quasi magico, il nostro museo di scienze naturali. Questo aumenta ulteriormente l'offerta culturale della città che abbiamo visto anche negli ultimi dati molto molto recenti ha creato anche un indotto turistico che porta denaro alla nostra città e la rende anche più conosciuta all'esterno.